Queste due magnifiche sculture in mostra sono realizzate con una tecnica fusoria molto particolare, molto difficile, ovvero la fusione a cera persa, ma di questo e di altro ci parlerà Mir Colomi. I due bronzetti raffiguranti San Filippo e San Paolo sono l'evidente riflesso dell'abilità raggiunta da Rocca Tagliata nel sapersi destreggiare in tecniche di fusione e di rifinitura conosciute fin dall'antichità, come la tecnica di fusione per antonomasia classica a cera persa. Il metodo classico prevedeva che su un modello in argillo o comunque in materiale rifrattario l'artista riprendesse minuziosamente le forme sottostanti con uno strato di cera appunto. Il tutto a sua volta veniva racchiuso in un involucro sempre rifrattario al calore e la cera appunto si perdeva all'interno dei canali realizzati in questo involucro chiamato anche tonaca alle alte temperature a cui veniva sottoposto il tutto. La sottilissima intercapedine che si otteneva veniva poi riempita con il metallo, la lega in bronzo, che doveva rivestire uniformemente e in maniera omogenea l'involucro interno. All'epoca della Rocca Tagliata, dalla seconda metà del Cinquecento e in particolare sul finale del Cinquecento, all'inizio del Seicento, viene ripreso invece il metodo che permetteva un grado di perfezione elevatissimo, a un cosiddetto metodo indiretto, molto simile al precedente, solo potremmo dire quasi inverso. Questa volta dal modello in argilla originale si otteneva un calco in gesso che si staccava poi dal modello e sul quale si spalmava lo strato in cera sull'involucro interno del calco in gesso, mentre la parte esterna, una volta tolto il calco in gesso, veniva ricoperta dalla tonaca appunto, attraversata, come dicevo prima, da tutta una serie di canali che permettono al bronzo fuso di ricoprire interamente l'involucro e allo stesso tempo fungono anche da sfiati per l'alta pressione appunto delle temperature della lega in bronzo fuso. Il metodo indiretto permetteva un vantaggio impensato prima del Cinquecento, quello che preservando il modello originale si può portare avanti una produzione seriale. È chiaro allora che l'idea di scrimere per capire l'intervento del maestro, in questo caso della Roccatagliata, la fa la qualità dell'opera. In particolare di fronte ai due brontetti dorati è evidente che l'intervento del maestro non è solo nella fase di modellazione del modello in argilla e in cera, ma è anche successivo proprio nelle fasi di finiture. Ecco quindi che anche la doratura fa la differenza e soprattutto in tutti quegli lavori diciamo di attenzione minuziosa quasi da miniatore della scultura, in cui vediamo questa resa dei panneggi che rendono le opere estremamente realistiche e dinamiche, tali da rendere questi due bronzetti due opere di un'eccellenza unica.